Ciao a tutti, l'aneddoto numero 5. Una volta un giovane ricchissimo è andato da un uomo saggio per chiedere il suo consiglio per la propria vita. E l'uomo li ha portato vicino alla finestra e gli ha chiesto, tra virgolette, cosa vedi? E il giovane ha risposto, vedo la gente, è un povero cieco. Questa volta gli ha fatto vedere uno specchio e ha ripetuto la sua domanda e il giovane ha risposto, vedo me stesso. Lui ha continuato il suo consiglio dicendo che in realtà lo specchio e il vetro sono stati fatti dalla stessa sostanza, ma c'è uno strato sottile dell'argento nel retro della finestra. Quando il vetro è povero può vedere gli altri e può avere questa specie di empatia. Invece quando si veste di una copertura e di una maschera dell'argento, non può vedere più gli altri e soltanto può vedere se stesso. Lui ha concluso il suo consiglio dicendo a quel ragazzo tu devi togliere questa maschera così che tu riesca a vedere gli altri e amare gli altri. Quindi per amare gli altri occorrerebbe togliere questa maschera e non vedere più te stesso. Ciao, alla prossima!